Nelle ultime settimane, un vento di inquietudine ha iniziato a soffiare nella vita di Enzo Paolo. Il motivo? Un'antica voce, un pettegolezzo ormai considerato sepolto, ha improvvisamente riacquistato vigore. La leggenda racconta di un'apparente intimità tra la frizzante Carmen Russo e il giovane e il popolare Stefano De Martino. Sebbene entrambi abbiano negato categoricamente questi rumoresi in passato, l'ombra del sospetto ha insinuato nuovi turbamenti nel cuore del nostro caro coreografo. La tensione è arrivata al culmine durante uno speciale del grande fratello. Carmen, con la grazia di chi sa di avere la verità dalla sua parte, è entrata in scena per affrontare il mare di dubi che minacciava la serenità del suo matrimonio. Davanti alle telecamere, con il pubblico intrepidante attesa, le sue parole risuonavano chiare come una campana, nessuno spazio per malintesi o segreti. Ogni sguardo e ogni gesto erano lì a dimostrare che il loro legame era saldo come una roccia. Enzo Paolo, nonostante le ombre che lo avevano accompagnato, ha potuto scorgere attraverso la sincerità di Carmen quella luce che aveva temuto di perdere. È proprio in quei momenti finali che ogni dubbio si dissolve, e rimane solo la certezza di un amore che, ancora una volta, si erge sopra ogni mormorio.